Il suo sussurro. Sentii un brivido nel mio cuore. Mi era venuto in mente il nome di un amico. Sentii il suggerimento di fare qualcosa per quel nome, ma la frenesia della giornata presto accantonò quella spinta, credo fosse da Dio, negli angoli più remoti del mio cuore e della mia mente. Il giorno dopo, quell'agitazione era ancora più accentuata. Non riuscivo a togliermi il nome dalla testa. La persona a cui si riferiva il nome aveva attraversato momenti difficili mentre accompagnava sua moglie nelle cure per il cancro. Questa volta non avevo intenzione di perdere quella spinta di Dio. Presi subito il telefono e la risposta del mio amico alla chiamata non mi sorprese. Sono così contento che tu abbia chiamato, ho davvero bisogno di parlare. Sono stato così felice di aver chiamato e il mio unico rimpianto è stato quello di non aver seguito la guida dello Spirito Santo prima. Dio ci parla attraverso lo Spirito Santo e quando rispondiamo i miracoli accadono. Ascolta queste promesse di verità. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò al Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Vangelo secondo Giovanni 14 15 17. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Prima lettera ai Corinzi 3 16. Dio parla attraverso il suo Santo Spirito e quello stesso Spirito è dentro di te. Proprio ora la domanda è risponderai a ciò che ti suggerisce di fare? Cosa succederebbe se scegliessimo di dire sì a ogni suggerimento dello Spirito Santo che sentiamo oggi? Mi chiedo quanti miracoli potremmo vedere attraverso un semplice sì. In questo momento potresti sentire un po' di tensione e chiederti ma come posso sapere con certezza che è Lui. Se il suggerimento che senti si allinea alla parola di Dio porterà incoraggiamento e speranza per qualcuno e in definitiva porterà gloria a Dio. Preghiamo. Spirito Santo oggi ti ascoltiamo. Quando richiesto risponderemo. Rendici sensibili ai tuoi sussurri silenziosi. Oggi vogliamo solo fare la tua volontà perfetta e gradita. Amen. Ti sei mai chiesto perché Dio sussurra. Credo che sia perché quando Dio sussurra dobbiamo avvicinarci. Avvicinarci intenzionalmente. Dedicare tutta la nostra attenzione e diventare molto silenziosi per non perdere una parola. Che modo meraviglioso di ascoltare la voce di Dio. Vicini, concentrati e silenziosi. Ti prego di stare vicino a Dio tutto il giorno. Grazie di esistere. Grant